ciao a tutti io sono le lirfa e oggi mi trovo su sim 4 più precisamente sul dlc vita della campagna dunque ragazzi in questo nuovo dlc dobbiamo occuparci sia degli animali sia del nostro orto vedete ora ho questo lotto quindi un'abitazione mia già arredata e se volete averlo uguale al mio ho fatto un video dove spiego come riuscire ad ottenerlo dunque allora possiamo inizialmente avere delle galline vedete questo è il recinto dove sono contenute appunto le galline dunque allora qua sembrerebbe che di anche qualcosa regalino regalare allora vediamo un attimino possiamo avere fino a otto galline per ogni pollaio se non sbaglio allora vediamo intanto dobbiamo tenere il pollaio molto pulito quindi abbiamo la possibilità di pulirlo come potete vedere io quando vado a cliccare sopra vedete c'è scritto che la capetta di pollaio è su cinque se otto cioè significa che io ho cinque galline ma ne posso ottenere tenere fino a otto poi abbiamo le uova da andare a raccogliere in questo momento è pulito non ho pulcini ho quattro galline e un gallo ok allora abbiamo appena pulito gli diamo un po' di cibo e poi ne dovremmo andare a raccogliere le nostre uova ecco raccogli le uova quindi adesso veloci siamo un po' la situazione credo che sono anche andata poi al lavoro ecco così sistemiamo tutto perché naturalmente i nostri animali avranno le loro esigenze qui invece mi sembra che non ho ancora nulla allora posso andare ad acquistare altri polli vedete in questa maniera qui quindi i polli e me li divide in gallina bianca marrone quindi posso scegliere il colore che voglio e poi abbiamo il gallo bianco marrone eccetera e infine anche pulcini e il pulcino gallina e il pulcino gallo hanno vari tipi di prezzi quindi posso andare a comprarne altri perché qui in questo momento io posso avere due polli quindi in totale 16 galline quindi andiamo a compararne un po' e ci mettiamo un bel gallo in questo modo vedete che sono uscite fuori le mie nuove galline naturalmente dovrò tenere sempre molto pulito e sott'occhio il pollaio poi per quanto riguarda la stalla possiamo avere soltanto una mucca o una mucca o un lama per volta in questo caso io ho già la mia mucca in questo caso vedete il capanno per gli animali è pulito e ha anche un livello massimo di cibo possiamo dargli un nome e andare a acquistare un animale vediamo cosa possiamo prendere un lama beige o la mucca macolata la mucca marrone e il lama bianco quindi sono questi due animali però uno per ogni stalla quindi ci andiamo a acquistare una bella mucca bianca e nera il lama credo che darà la lana però credo che la mucca e lama non ne possa avere comunque vediamo se adesso arriva la mucca eccola qui ragazzi questa credo che mi darà il latte vediamo se ci clicco sopra mi posso dare un dolcetto però mi sa che lo devo andare o a preparare o a comprare che non ho capito bene ancora dove si va a comprare comunque per adesso vediamo un po' dai un nome alla mucca ah sì li possiamo dare anche un nome ecco diamoni da mangiare soprattutto importante vabbè siamo in piena notte ma gli animali di notte solitamente andranno a dormire però vedete li do da mangiare e qui dovrebbe andare tutto bene perché dentro come potete vedere qua nella sua mangiatoia è pieno di fieno quindi non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda ora la mucca teoricamente facciamo un esperimento e vediamo se in realtà posso andare a a comprare magari anche un lama ma no mi sembra di no in questo momento no invece per quanto riguarda il nostro giardino è un po fuori fase perché l'ho trascurato il tempo è stato un po sprecato diciamo così allora come vedete qui però già la pianta è cresciuta si tratta di un platano e dovrà ancora crescere poi dunque allora qui andiamo a pulire perché buttare via poi vedete questi qui in effetto io non so perché ogni tre secondi mi si distruggono andiamo a chiamare un servizio di riparazione devo pagare anche la bolletta dall'acqua allora andiamo qui qui ci stanno le nostre bollette controllo l'impianizzazione del quartiere è arrivato il tipo allora questa qui ci dovrebbe mettere a posto vedete i nostri innaffiatoi perché qui bisogna innaffiare erano tutti scassati non so per quale ragione scura tanto per far spendere soldi probabilmente allora questa è un po imbambolata devo andare anche poi al lavoro perché questo qui è soltanto un hobby dunque allora rispondiamo e probabilmente adesso andrò anche al lavoro dunque questa qua si è imbambolata diamogli una mancia di 100 quindi forse magari si sveglia un attimino allora in ogni tanto si incontra anche un coniglio come potete vedere questi coniglietti se ci clicco sopra posso fare delle azioni vabbè adesso sono andata al lavoro però comunque qua ci sono anche le piante da andare accendiamo questa qui cioè praticamente non ho capito ecco le andiamo ad accendere e anche questo qui va acceso una volta che abbiamo acceso dovremmo cliccare qui e andare a acquistare i nostri semi proviamo a mettere dei semi d'aglio comprarli vedete si apre questa interfaccia e mettiamo che compro un paio di sacchettini ok i sacchettini poi li trovate qui all'interno del vostro inventario sono questi qua ci dovete cliccare sopra e fare apri il pacchetto di semi dovete aprire tutti i pacchetti sennò non risultano presenti nell'inventario dunque una volta aperti possiamo andare a piantare le nostre piante in questa maniera pianta e andiamo a mettere qui l'aglio teoricamente dovrei arrivare a piantare questo aglio ok questo qui non lo voglio fare vedete qua ha piantato vedete sto piantando lo posso mettere credo 4 per ogni lotto facciamo un po più velocemente vabbè dove avevo finiti vediamo se ce ne sono più di ovviamente invece queste piante sono state trascurate perché non c'era più l'acqua e quindi vanno eliminate come piante morte e quindi quindi adesso ho fatto un bel passaggio di secondo livello per quanto riguarda il giardinaggio bisogna tenere sempre sotto occhio qui la situazione nell'acqua perché ogni tanto si va a scassare non so per quale motivazione allora ragazzi questo è una prima guida base per riuscire a tenere sia l'orto che gli animali poi vedremo magari se c'è qualche altra novità nei prossimi episodi ora vado a dormire perché sono praticamente distrutta se avete delle domande per quanto riguarda questo nuovo dlc fatemelo sapere qui sotto nei commenti mi raccomando fatemi sempre sapere cosa ne pensate la vostra opinione così almeno in base a quello che mi fate sapere posso fare dei nuovi video ragazzi è arrivata una volpaccia queste qui sono molto pericolose per quanto riguarda bisogna cacciarle via perché possono attaccare sia soprattutto i nostri polli forse anche la mucca non lo so comunque sono pericolose allora dicevo vabbè allora andiamo a raccogliere le uova perché qua ce n'erano quattro vediamo quanti ce ne stanno e altri quattro ok bisogna poi dargli ogni tanto di una pulita almeno stanno bene puliti e poi non hanno più cibo questi ok in teoria dovrebbe darmi il cibo allora ragazzi ok mettete un bel mi piace a questo video adesso io andrò a pulire un po tutto qui il giornino vedete qua le nostre culture già se sono l'aglio già sta uscendo fuori vedete queste piantine qua poi mano mano che andiamo fare vedete qua c'è scritto aperta qui vedete queste sono le nostre uova ok ragazzi volete vedere altri video iscrivetevi al canale e naturalmente attivate tutte le campanelle ciao a tutti e alla prossima grazie a tutti